Continuiamo a parlare di rapporto tra ragione e passioni. C'eravamo prefissi di condurre una riflessione ad ampio raggio, partendosi da Spinoza, che è il nostro punto di riferimento fondamentale, ma poi allargando il discorso ad altri pensatori. In particolare nelle dispense che vi ho fornito abbiamo dei passi da leggere, da commentare, da studiare insieme. Il primo si riferisce a Thomas Hobbes, pensatore che abbiamo già incontrato quando parlavamo di politica all'inizio dell'anno, ma che ha un punto di vista molto interessante anche per quanto concerne l'etica, di fatto il pensiero politico di Hobbes prende le mosse dalla sua concezione etica. Il secondo pensatore che prenderemo in esame è David Hume, filosofo inglese, anche lui. Gli inglesi tra 600 e 700 hanno molte cose da dirci e da insegnarci. e in ultimo leggeremo un passo di Immanuel Kant, filosofo tedesco, con il quale sostanzialmente si chiude il XVIII secolo, il secolo dell'illuminismo, e che sarà il nostro punto d'arrivo, il punto di vista etico, quindi per ciò che concerne il rapporto ragione-passioni, successivamente prenderemo in esame Hume e Kant, ma anche Locke, per parlare di un'altra questione, quella gnosiologica, epistemologica, che sta particolarmente a cuore a questi filosofi e che poi determina sostanzialmente lo sviluppo del metodo scientifico moderno, insomma ci avviciniamo veramente alla contemporaneità. Quindi, diciamo, l'ultimo blocco di considerazioni che faremo verso la fine dell'anno scolastico si riallaccia al discorso che abbiamo fatto durante il primo trimestre a proposito dello sviluppo del metodo scientifico. Insomma, veniamo al punto, alla lezione di oggi, Hobbes, l'etica descrittiva. Leggo e commento come ho fatto con Spinoza. Innanzitutto cosa significa etica descrittiva? Ebbene, questo è il grande punto di svolta della filosofia secentesca, una vera e propria rivoluzione copernicana in un certo senso. Fino a quel momento l'etica aveva avuto una funzione prescrittiva, ovvero di indagine intorno al bene e al male per giungere alla prescrizione di norme di comportamento di una condotta finalizzata al raggiungimento del bene e ad evitare evidentemente il male. La condotta virtuosa, la virtù, è sostanzialmente la dote che consente all'uomo di centrare il suo obiettivo etico, ovvero di fare il bene e di conseguire dunque la felicità. Uso i termini italiani, avrei potuto usare quelli greci, visto che l'etica è un'invenzione dei greci, come la stessa filosofia. Allora, etica come prescrizione di norme utili al conseguimento della felicità. Tale visione è ripresa successivamente dai filosofi cristiani e giunge sostanzialmente fino alla vigilia, fino all'inizio dell'età moderna. Con l'età moderna, quindi da cartesio in poi, grosso modo, si inizia a considerare l'etica da un altro punto di vista, che è poi quello scientifico, cioè il punto di vista descrittivo. Dunque l'etica, in senso scientifico, non deve tanto dire che cos'è bene e che cos'è male, prescrivere delle norme per il conseguimento del bene e del male, perché evidentemente non si dà una scienza del bene e del male separata dalla scienza che studia l'uomo, che studia il comportamento dell'uomo. Lo studia nel suo darsi come fenomeno naturale, ovvero il filosofo etico, e Hobbes incarna indubbiamente questo tipo di filosofo, ha come obiettivo lo studio della natura umana. E i concetti di bene e di male, da questo punto di vista, sono concetti derivati, non fini a cui tendere, bensì dei concetti derivati da quella che è la natura umana. Dunque, per bene, evidentemente, si intenderà ciò a cui mira il desiderio dell'uomo, quindi il soddisfacimento delle sue pulsioni fondamentali. Ciò che è utile alla sopravvivenza e alla maggiore potenza, all'accrescimento di potenza del singolo soggetto, è una considerazione simile a quella che abbiamo fatto per Spinoza, noi lo chiamiamo utile e lo chiamiamo buono. Ciò che invece causa un detrimento di potenza, una diminuzione di potenza, lo chiamiamo male, esso genera dolore. Quindi vedete che i termini tendono effettivamente a coincidere. Termini tratti dalla sfera, per così dire, edonistica, piacere e dolore, coincidono con termini tratti dalla sfera puramente etica, cioè bene e male. Queste idee che Platone, per esempio, e tutta la tradizione platonica e poi cristiana, distinguono in maniera abbastanza significativa. Non che il bene non dia anche piacere, ma il bene è altro rispetto al piacere, anzi il bene nella tradizione classica e l'atteggiamento di metron, di misura di colui il quale si mostra razionalmente distaccato, armoniosamente lontano dal puro e semplice soddisfacimento dei bisogni principali, e quindi non ha come mira il piacere, la piacevolezza, o non necessariamente, al punto che il perseguimento cieco dei piaceri conduce al male, conduce al male morale, dunque conduce alla sofferenza. Nella visione cristiana evidentemente l'eccedere in una direzione del genere porta alla dannazione eterna, e perseguendo piaceri eccessivi che le anime dannate finiscono all'inferno, cioè quelle della prima parte dell'inferno, quelle che hanno violato la metriotes greca, quella di Platone e di Aristotele, oppure la mediocritas, cioè che hanno chiesto troppo, che sono andati oltre la misura. Ecco che da questo punto di vista il piacere e il bene, il dolore e il male non necessariamente coincidono. Potrebbe essere bene fare una determinata cosa che comporta, svolgere una determinata funzione, fare una determinata azione che comporta una certa dose di dolore. Ecco, questo è il punto di vista degli antichi e dei medievali. Naturalmente sto sintetizzando e semplificando al massimo, abbiamo anche un pensatore come Epicuro, che fa coincidere edonisticamente il bene al piacere o il piacere al bene. Ma in linea di massima i due concetti sono separati, sono disgiunti. Con Hobbes invece l'idea del bene e l'idea del piacere, quindi il punto di vista morale, il punto di vista edonistico, ma anche il punto di vista dell'utilità, dal punto di utilità in senso fisiologico, tendono a coincidere, di fatto coincidono. Leggo Hobbes e per il fatto che la costituzione del corpo umano è in continuo mutamento, è impossibile che tutte le stesse cose causino sempre nell'uomo gli stessi appetiti e avversioni. Molto meno tutti gli uomini possono consentire nel desiderio di un solo e medesimo oggetto, quale che sia o quasi. Ma qualunque esso sia, l'oggetto dell'appetito o desiderio di un uomo è ciò che egli per parte sua chiama buono, l'oggetto del suo odio e della sua avversione, cattivo, è quello del suo dispregio, vile e trascurabile. Infatti queste parole, buono, cattivo e spreggevole, sono sempre usate in relazione alla persona che le usa, dato che non c'è nulla che sia tale semplicemente e assolutamente, e non c'è alcuna regola comune di ciò che è buono e cattivo che sia derivata dalla natura degli oggetti stessi. Essa deriva, invece, dalla persona, dove non c'è lo stato, o, in uno stato, dalla persona che lo rappresenta, oppure da un arbitro o giudice che le persone in disaccordo istituiranno per comune consenso e della cui sentenza faranno la regola. È chiaro. Dunque, il giudizio buono o il giudizio cattivo non dipendono dall'oggetto in sé, dunque non hanno un valore, per così dire, oggettivo, come ce l'aveva, per esempio, l'idea platonica di bene, piuttosto che il suo contrario. Dunque, bene e male non hanno un valore oggettivo, ma dipendono soggettivamente dall'essere umano, vanno comprese studiando la natura umana. La natura umana, dice Hobbes, è decisamente mutevole, decisamente variabile, ma indipendentemente dall'oggetto del desiderio della singola persona, una considerazione la possiamo fare, una considerazione generale, ovvero chiameremo buono tutto quello che, come singoli, ci troveremo in quel determinato momento a desiderare, a bramare, mentre chiameremo cattivo tutto ciò che in quel determinato momento tenderemo ad avversare, a scansare, a sfuggire. Buono, dunque, è ciò che è desiderabile, cattivo, è ciò che è da rifiutare, da scostare. E chiameremo invece vile e trascurabile, insignificante, quello che per noi, in quel determinato momento, non ha alcun valore. Dunque, il polo di attrazione dell'etica descrittiva di Hobbes, ed è poi lo stesso polo di attrazione di tutti i filosofi moderni, non è più l'oggetto, diventa il soggetto, nella fattispecie il soggetto umano. E dunque, studiando la natura umana che capiamo, in termini descrittivi, scientifici, che cosa significa bene, che cosa significa male. Questo è il nuovo approccio etico tipico della modernità. Nel passo che ho appena finito di leggere, nel paragrafo che ho appena finito di leggere, Hobbes menziona anche lo Stato, menziona anche, eventualmente, il giudice. E allora che nozione abbiamo di bene e di male? Beh, una nozione che facilmente passa, travasa, dall'etica alla politica. Etica e politica sono strettamente collegate. L'etica riguarda il punto di vista del singolo individuo. Di contro, la politica è il luogo in cui gli interessi, dunque i desideri e le avversioni dei singoli entrano in contatto, si incontrano o, per meglio dire, si scontrano. E allora diremo bene o diremo male, in una comunità civile o politica, ciò che lo Stato, la legge, ovvero l'equilibrio di forze, ha determinato come bene, dunque come desiderabile, o come male, dunque come ciò che va avversato. E qualora ci sia una lite tra due o più soggetti? Sarà il giudice, il giudice di pace, a determinare, con una sentenza, che cosa è bene e che cosa è male. Vedete che bene o male hanno, anche in questo caso, una radice naturale, cioè derivano, in qualche maniera, dal diritto naturale, che fa riferimento al singolo soggetto in quanto membro della specie umana, ma poi sconfinano e generano, per superfetazione per così dire, la nozione di bene e di male in termini legislativi, cioè in termini normativi, dalla legge di natura si passa alla legge degli uomini. E allora bene e male sono in certo senso convenzionali, ma non è una convenzione, quella a cui pensa Hobbes, di tipo puramente relativistico, è una convenzione basata su un rapporto preciso di forze meccaniche, perché le passioni umane, qui l'uomo è passionale, è solo passione. Allora quello che agisce nell'uomo in senso fisiologico è mosso dalla natura, l'uomo non controlla nulla, o meglio il suo assenso in termini razionali o in termini consapevolezza, riguarda il sorgere puro e semplice delle passioni. Le passioni non si controllano, tuttavia le passioni entrando meccanicamente in conflitto, in primo luogo all'interno del singolo organismo, ognuno di noi è un campo di battaglia per così dire, in cui impulsi diversi, passioni diverse, si scontrano e alla fine la passione che prevale di poco o di molto è figlia di questo scontro di energie puramente meccaniche. A sua volta questa passione, questo slancio, incontra meccanicamente altre forze, che sono quelle esterne al singolo individuo, e sono le forze contrapposte degli altri animali, degli altri esseri, o fondamentalmente degli altri uomini. Il risultato anche qui è matematicamente, fisicamente determinabile. Quando due forze opposte si scontrano, ebbene, a prevalere sarà la forza che avrà un potenziale maggiore rispetto all'altra. Anche qui le forze tendono a scontrarsi e poi ad equilibrarsi. Allora l'idea dell'equilibrio delle forze è quella che conduce dall'etica alla politica. La legge, quella che determina in maniera convenzionale, in maniera istituzionale, il bene e il male, è dunque figlia di questa logica meccanica. In etica e in politica valgono le stesse leggi, la stessa logica che vale in fisica, che vale nelle scienze naturali. C'è una differenza di fondo però. Mentre per quanto riguarda le scienze della natura, noi soggetti umani dobbiamo limitarci ad una osservazione empirica e ad una valutazione verosimile o probabilistica, dal momento che la natura non ci vede come artefici, l'uomo non ha fatto la natura. L'uomo è nella natura ma è consapevolmente altro dalla natura, spettatore, ma non artefice della natura. Mentre per quanto riguarda etica e politica, l'uomo ha come oggetto di studio se stesso, quindi può usare, diciamo, può coniugare il verbo studiare, conoscere in senso riflessivo. Il soggetto e l'oggetto coincidono. Ecco perché nell'ambito delle cosiddette scienze umane l'uomo può permettersi, l'uomo lo scienziato nella fattispecie, Hobbes, può permettersi di dedurre i principi, non semplicemente di indurli tramite osservazione empirica. Una deduzione che Hobbes ritiene assolutamente certa, geometricamente verificabile. Ma questa, l'abbiamo già visto, è una costante tipica di tutti i pensatori secenteschi. L'abbiamo già ampiamente studiata e svolta parlando di Spinoza, dunque non ci fa affatto meraviglia che incontri il placet di un filosofo contemporaneo come Hobbes. Andiamo avanti. Queste semplici passioni, chiamate appetito, desiderio, amore, avversione, odio, gioia e afflizione, hanno i loro nomi diversificati per diverse considerazioni. In primo luogo, quando si succedono l'un l'altra, vengono chiamate diversamente sulla base dell'opinione che gli uomini hanno della probabilità di raggiungere ciò che desiderano. In secondo luogo, sulla base dell'oggetto amato o odiato. In terzo luogo, sulla base della considerazione di parecchie insieme. In quarto luogo, sulla base dell'alterazione o successione stessa. Infatti, l'appetito, congiunto con l'opinione che si conseguirà, è chiamato speranza. Lo stesso, senza tale opinione, disperazione. L'avversione, con l'opinione di un documento, di un danno, da parte dell'oggetto, è chiamata timore. La stessa, con la speranza di evitare quel documento, per mezzo della resistenza, è chiamata coraggio. Il coraggio subitaneo, cioè che si manifesta all'improvviso, è chiamato ira, la speranza costante, confidenza in noi stessi, fiducia in noi stessi. La disperazione costante, diffidenza verso noi stessi. Oggi diremmo disistima. L'ira, per un grande danno arrecato ad un altro, quando comprendiamo che lo si è arrecato ingiustamente, è detta indignazione. Il desiderio del bene per un altro, benevolenza, buon volere, carità. Se è per l'uomo in generale, buona natura. Filantropia, diremmo noi. L'amore delle persone per una vita socievole, affezione. L'amore delle persone per il piacere del senso solamente, concupiscenza naturale. L'amore per le stesse, acquisito per ruminazione, pian piano, digerito pian piano, cioè per l'immaginazione del piacere passato, lo chiamiamo lussuria. L'amore per una singola persona, con il desiderio di essere amato come persona singola, la passione d'amore. Lo stesso, con il timore che l'amore non sia reciproco, gelosia. Il desiderio di recare danno ad un altro, per fargli biasimare qualche sua azione, spirito di vendetta. Il desiderio di conoscere il perché e il come, curiosità. Esso non si trova in alcuna creatura vivente, se non nell'uomo, così che l'uomo si distingue dagli altri animali, non solo per la sua ragione, ma anche per questa passione singolare. In essi, la predominanza dell'appetito, del cibo e degli altri piaceri del senso, rimuovono la preoccupazione del conoscere le cause, la quale è una concupiscenza della mente che, per un perseverare del diletto nella continua e infaticabile generazione della conoscenza, eccede la breve vehemence di qualunque piacere carnale. Un po' complesso, ma ho preferito leggere tutte le definizioni. Questo è tipico di Hobbes, ma abbiamo visto, l'abbiamo incontrato anche in Spinoza, ovvero le passioni possono essere dedotte e descritte in maniera puntuale, sommando o sottraendo insieme determinati elementi a formare giudizi di valore. Quindi è dalle passioni di fronte alle quali l'uomo non ha minimamente la possibilità di scegliere e dalle passioni che derivano le nostre azioni. Si manifestano le passioni e derivano le nostre azioni. Di questo noi possiamo diventare in qualche maniera consapevoli, ma a differenza di Spinoza, tale consapevolezza in Hobbes è puramente scientifica, è lo sguardo dello scienziato che analizza cause meccaniche e sa perfettamente che rispetto a queste cause, meccaniche, egli è totalmente disarmato, le può conoscere e le può giustificare dal punto di vista conoscitivo, ma non le può controllare. Spinoza, invece, abbiamo visto, e anche Cartesio in qualche maniera, ritiene, ritengono ambedue, che le passioni si possano controllare nel senso di trasformare. Abbiamo definito le passioni come un quid di energia sul quale, attraverso la consapevolezza, la mente del singolo può retroagire, in senso trasformativo. È un cammino lento, faticoso, riservato a pochissime persone, in più sono del tutto soggetti ignari, soggetti ignari delle loro passioni, ovvero non le controllano, ragionano per fini ma sono agiti meccanicamente. Però attraverso la scienza, la conoscenza e poi attraverso l'amor dei intellectualis, il singolo ha la possibilità di elevarsi ad una forma di conoscenza che gli consente di retroagire sulle passioni, o meglio, di trasformare queste energie spirituali, emozionali, fisiologiche, da passioni ad azioni. Tutto questo in Ops. Non lo troviamo evidentemente. Ops è assolutamente convinto che libertà coincide con il seguire i propri desideri, impulsi, punto. E ciò che ci rende liberi o meno non dipende dal placet che il singolo dà alle proprie pulsioni, non può non assecondarle queste pulsioni, ma dipende da fattori esterni, ovvero se un altro soggetto che ha una sua energia potenziale, in termini fisiologici e desiderativi, si mette, si interpone metaforicamente tra me e il mio oggetto del desiderio, tale interposizione, qualora manifesti diciamo una potenza maggiore della mia, reca danno alla mia libertà. Dunque io non sono libero nella misura in cui c'è una forza maggiore e che ha una spinta opposta alla mia che nega il soddisfacimento del mio desiderio. Se io desidero, io uomo desidero una donna ma un altro uomo, in questo mondo di bestioni in lotta gli uni contro gli altri di Ops, desidera la medesima donna ma ha più forza, non solo in termini diciamo fisici ma anche in termini seduttivi, per suscitare nella donna un desiderio che si incontra con il suo, un desiderio specchio del suo, ebbene la partita la vincerà lui e dunque io rimarrò frustrato, schiavo, non libero rispetto al conseguimento del mio desiderio, rispetto al poter mettere le mani, per così dire, sull'oggetto del desiderio. Ecco, ed è quello che chiama, è quello che Ops chiama appunto appetito, desiderio, amore, avversione, odio, gioia, afflizione, termini diversi ma che indicano sostanzialmente la stessa cosa. E poi lui mette insieme questi termini, li somma insieme, quindi l'appetito, il desiderio, congiunto con l'opinione che si conseguirà, dunque il desiderio proiettato verso il futuro, lo chiamiamo speranza. Quando il desiderio lo accarezziamo e sentiamo che in qualche maniera è alla nostra portata, dunque è lì per attuarsi, o abbiamo un'aspettativa concreta, visto le forze, la potenza che abbiamo in quel momento, che ci sentiamo di avere in quel momento, bene l'appetito, il desiderio più la fiducia in noi stessi la chiamiamo speranza, il contrario sarà la disperazione, la mancanza di fiducia in se stessi, non i mezzi, le mie forze sono scarse, dunque dispero di poter cogliere nel segno di poter ottenere l'oggetto del mio desiderio. L'avversione più l'opinione di un danno che subiremo da una terza parte e la chiamiamo paura, timore, noi abbiamo paura di ciò che avversiamo, di ciò che sentiamo come negativo, sentiamo come una diminuzione della nostra potenza. Di contro il timore, scusate, l'avversione unitamente alla speranza di potercela fare, di poter affrontare vittoriosamente quella determinata sfida, la chiamiamo coraggio. Vediamo di fronte a noi un pericolo, una situazione che può arregarci un danno, ma avendo fiducia in noi stessi riteniamo di avere un quantum di potenza in grado di farci vincere la sfida e dunque siamo ci dimostriamo coraggiosi. Anche qui c'è un calcolo, una proporzione matematica. Il coraggio subitaneo, cioè il coraggio che si manifesta in maniera esplosiva qui ed ora, quindi puntuale, euristico, in questo attimo di tempo è l'esplosione dell'ira, la speranza che invece si manifesta in termini ampli, che è il tenore di fondo, la colorazione di fondo della nostra vita, la chiamiamo confidenza in essenza, fiducia. Cioè una persona che ha fiducia in se stesso è una persona che spera, spera nel senso fisiologico, terrestre, terreno della parola, è forte, gode di buona salute, ha avuto successo nel passato, dunque è assolutamente fiducioso di se stesso, affronta gli ostacoli con grande noscialanza e in linea di massimo ottiene successo. Il contrario, la disperazione genera diffidenza, sfiducia, depressione e quindi conduce evidentemente all'insuccesso, spesso e volentieri conduce all'insuccesso. E' così, il desiderio del bene per altre persone, il desiderio del bene per altre persone, ma anche qui meccanico, funzionale, al proprio soggettivo punto di vista, lo chiamiamo benevolenza, buon volere, carità. Anche qui non nulla di religioso, di spirituale, di mistico, di paradisiaco, di divino. La carità è una una funzione alchemica, chimica, della natura umana ed è funzionale effettivamente al soddisfacimento di un desiderio originario. Il desiderio di gregge, il desiderio dello stare uniti in gruppo, lo stare unito in gruppo con altre persone mi rende più forte, più fiducioso, meno timoroso. E se poi prendo questo desiderio, lo trasformo in un principio astratto, allora parlerò di filantropia, ma l'origine, in termini chimici, è sempre la stessa. E così via. Quando parliamo invece di amore per la persona, nel senso del piacere fisico, in sé per sé, la chiamiamo concupiscenza. Se poi, oltre alla concupiscenza, al desiderio per quella persona, per il corpo di quella persona, per l'atto sessuale, ci unisco anche una certa ruminazione, dice Hobbes, cioè una serie di pensieri collaterali, no? Cioè è una sensazione che si approfondisce, non è subitanea, non è momentanea. Concupire una persona è un atto che trova, diciamo, sfogo e significato in un determinato momento, in un preciso momento della nostra giornata o della nostra vita. Se invece l'idea è sostenuta nel tempo, quindi distribuita nel tempo, la chiameremo lussuria, questa in generale per l'atto in sé, se invece è collegata a quella singola persona, quella persona lì in particolare, non la chiameremo nemmeno più lussuria, la chiameremo passione d'amore. Di contro la passione d'amore genererà, vedi il caso di Otello, la gelosia. E così via. Spirito di vendetta, il desiderio di arregare un danno all'altro affinché l'altro prenda coscienza del danno che ha fatto a noi. Anche qui è un calcolo meccanico. In ultimo, il brano di Hobbes si chiude con il termine curiosi, curiosità, la curiositas di latina memoria, che è tipica dell'uomo. Ecco, questa è la considerazione finale. Mentre altre, le altre passioni alla fine in gran parte le condividiamo con il mondo animale, la curiosità invece è tipica dell'uomo. Gli altri animali infatti consumano la loro vita appresso agli appetiti elementari, cioè l'appetito del cibo, degli altri piaceri dei sensi. Mentre l'uomo ha la possibilità, è animato da questa concupiscenza della mente che la porta a perseverare nello studio, nella conoscenza. Magari porta molte persone, altre persone effettivamente no. Poi bisogna vedere cosa si intende per studio, ma anche il termine studio, studio in latino, è desiderio. E vedete che anche qui il termine studio, che sembra astratto, lontano, ha a che vedere, così direbbe Hobbes, ha a che vedere con la natura concupiscente dell'uomo. È un bisogno fisiologico, istintivo, primario. Alla fine Homo sapiens fa del desiderio di conoscere la sua principale leva di potere, di accrescimento nella selezione naturale, cioè l'uomo è un animale assolutamente adattabile, assolutamente flessibile, perché dell'intelligenza, della brama di conoscenza, ha fatto la sua principale arma adattiva. Dunque anche qui anche i termini più astratti possono essere ricondotti meccanicamente, fisiologicamente alla natura umana.